Ciao bambini, ora vi racconto una bella favola, una favola nuova che penso che non avete mai ascoltata. Questa è la favola che ho scritto per voi. C'era una volta un pesce che viveva in un lago. Era un pesce molto curioso e amava esplorare il mondo sottomarino. Un giorno, mentre nuotava vicino alla riva, vide una rana che saltava da una foglia all'altra. Il pesce rimase affascinato da quella creatura verde e agile e decise di seguirla. La rana si accorse presto di essere seguita da un pesce e si fermò su una foglia galleggiante. Il pesce si avvicinò timidamente e le disse, ciao sono un pesce, mi chiamo Blu e tu come ti chiami? La rana rispose, ciao sono una rana, mi chiamo Verde e cosa vuoi da me? Il pesce disse, volevo solo conoscerti, mi sembri molto interessante, ti va di fare amicizia? La rana esitò, non aveva mai avuto un amico pesce, ma poi pensò che sarebbe stato divertente avere un compagno di avventure. Così disse, va bene, possiamo essere amici, ma devi promettermi di non mangiarmi. Il pesce promise, non ti mangerò mai, sei troppo preziosa per me. E così iniziò la loro amicizia. Il pesce e la rana passavano le giornate insieme, raccontandosi le loro storie e scoprendo le meraviglie del lago. Il pesce mostrava alla rana i colori e le forme dei pesci, delle piante e delle rocce sottomarini. La rana mostrava al pesce i fiori, gli insetti e gli uccelli che vivevano sulla terraferma. Si divertirono tanto, molto e si capivano a meraviglia. Col passare del tempo il pesce e la rana si innamorarono. Si rendevano conto che erano fatti l'uno per l'altra, nonostante le loro differenze. Gli scambiavano baci e carezze, si giuravano amore eterno. Il loro amore non era visto di buon occhio dagli altri animali del lago. I pesci dicevano che il pesce era pazzo a innamorarsi di una rana che era una preda e non una compagna. Le rane dicevano che la rana era sciocca a innamorarsi di un pesce che era un nemico e non un amico. Tutti gli deridevano, gli insultavano e cercavano di separarli. Il pesce e la rana erano molto tristi per questa situazione. Non gli capivano perché gli altri non li lasciassero in pace, non volevano rinunciare al loro amore, ma non volevano neanche vivere una guerra con il resto del mondo. Un giorno decisero di andare a chiedere consiglio al saggio gufo, che viveva in un albero vicino al lago. Il gufo era famoso per la sua saggezza e la sua imparzialità. Il pesce e la rana speravano che lui potesse aiutarli a risolvere il loro problema. Arrivati all'albero del gufo, lo chiamarono a gran voce. Il gufo spuntò fuori dal suo nido e li guardò con curiosità. Il pesce e la rana gli raccontarono la loro storia e gli chiesero «Che cosa dobbiamo fare? Come possiamo vivere il nostro amore senza essere odiati dagli altri?» Il gufo gli ascoltò attentamente e poi disse «Il vostro amore è molto bello e molto raro. Non fatevi scoraggiare dalle parole e dagli azioni degli altri. Loro non capiscono il valore della diversità e dell'armonia. Voi invece siete un esempio di come si possa amare al di là delle apparenze e delle convinzioni. Non abbiate paura di essere voi stessi, di seguire il vostro cuore. Il mondo ha bisogno di più amore come il vostro». Il pesce e la rana ringraziarono il gufo per le sue parole e si sentirono rincuorati. Capirono che il loro amore era più forte di qualsiasi ostacolo e che nessuno poteva impedirgli di essere felici. Si abbracciarono e si baciarono e poi tornarono al lago decise a vivere il loro sogno. Gli altri animali del lago continuarono a criticarli e a ostacolarli. Ma il pesce e la rana non ci fesero più caso. Si ammarono con passione e tenerezza e vissero insieme per sempre felici e contenti. E questa è la fine della favola. Spero ragazzi che vi sia tanto piaciuto. Seguitemi perché ve ne racconterò dagli altri se questa vi è piaciuto. Ciao!